La musica che muove i cuori, concerto di beneficenza delle Corali Unite di Ponzano, Montegiberto e Ortezzano, giunge alla sua seconda edizione candidandosi, data all'ampia partecipazione di pubblico, a diventare un appuntamento irrinunciabile della solidarietà in tutta la provincia di Fermo. Così Comune e Proloco di Ponzano organizzano, ospitati da Don Angelo De Carolis nella stupenda chiesa di San Marco, un evento che ha già portato, e continuerà a farlo, un importante sostegno alle associazioni Famiglie SMA in favore della ricerca per l'atrofia muscolare spinale e azione per famiglie nuove. La chiesa di San Marco oramai è nota per il Festival Armonia della Sera, ma oggi la musica assume un valore ancora più importante perché si estende anche a un discorso di solidarietà e di sensibilità per i più bisognosi. La seconda edizione e la musica mette insieme anche i comuni vicini con Ortezzano, Montegiberto e le loro corali, quindi si supera anche il campanile per una manifestazione di sostegno. Una corale da 40 elementi accompagnata da un'assemblea di 10 musicisti tra archi, fiati e percussioni che ha ripercorso sotto l'inecepibile direzione della maestra Laura Pasqualini di Ortezzano il repertorio sacro del Genverde, storica formazione del Movimento dei Focolari di Loppiano. Abbiamo pensato di aiutare l'associazione Famiglie SMA perché conosciamo un bambino di Ponzano che è affetto da questa patologia e poi siamo entrati in contatto con un asilo della Bolivia che in realtà aveva chiuso, aveva chiuso i battenti, aveva mandato via i bambini figli di ragazze madri e così abbiamo deciso di rifare quest'anno la lotteria allargando il numero dei biglietti, quindi siamo riusciti ad ottenere una cifra maggiore e ad aggiungere anche il ponte per sostenere i tanti che a l'ora di pranzo si presentavano per il pasto. Grazie.